Passa da 25 a 5 euro il costo del biglietto per gli spettacoli della compagnia goliardica Mario Baistrocchi che si esibirà per la prima volta al teatro Carlo Felice di Genova. Il 2 dicembre alle 21 e il 3 alle 16 sul palco con un duplice obiettivo, aiutare i piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Gaslini e festeggiare più di cent'anni di storia. Nel 1913 è uscito con Mario Baistrocchi che ha voluto a tutti i costi fare lo spettacolo a favore degli studenti poveri di Genova. Quindi praticamente è una continuità da quello che era prima sempre a favore di qualcuno che aveva bisogno ad arrivare ad oggi che è stato questo connubio ma sempre, noi abbiamo sempre anche dato qualcosa alla Gigi Rotti e adesso alla Croce Rossa proprio diamo la nostra professionalità e la nostra persona per cercare di fare qualcosa per loro. Il Comitato di Genova della Croce a cui andrà tutto ricavato degli spettacoli lavorerà per la struttura House of Heroes che con le sue 20 stanze accoglie i bambini e le loro famiglie che sono in cura all'Istituto Gaslini. Una missione, quella dell'aiuto sul territorio che la Croce Rossa si pone anche per il 2024. La nostra opera è soprattutto riguardo a queste problematiche, quindi abbiamo diverse attività legate all'ambulatorio gratuito che offre ovviamente specialisti a chiunque ne abbia necessità. Abbiamo due strutture dove ospitiamo ovviamente bambini e abbiamo tanti servizi anche di supporto pratico, quindi distribuzione viva e riuscite con l'unità di strada. Quindi abbiamo visto che ad oggi al canto, al servizio di emergenza, che è quello che ha sempre caratterizzato Croce Rossa, è necessario che la nostra presenza sia proprio sul territorio.